Turnover, domani sceglierò, diciamo che ho già scelto i giocatori che andranno in campo per la partita di domani, poi quella di Genova è stata un'altra partita, quella di Monaco sarà un'altra partita quindi cerco sempre di mettere in campo i giocatori funzionali per quella partita stanno tutti bene, veniamo da 5 giorni di riposo, Monaco ci sarà tra cui 5 giorni ora l'importante è pensare e soprattutto vincere o creare i presupposti per vincere perché poi il pallone non si sa come va a finire, la partita di domani perché la partita di domani è una delle due partite cruciali del campionato, sarebbe quella di domani e quella con il Torino in casa inizia un momento importante, un periodo importante ma bisogna ancora fare dei punti per arrivare in fondo al campionato perché domenica la scuola ha vinto una partita bella contro il Genova era una di quelle partite da vincere, venivamo da un periodo dove c'erano sicuramente state tante partite difficili e importanti come quelle di Barcellona ora domani è una partita da vincere perché come ripeto la Roma può arrivare a 90 punti quindi noi al momento bisogna fare 8 punti, poi vediamo se fa la Roma però